Questa festa animista si fa in Sicilia da circa 4.000 anni, è stata sincretizzata dal cristianesimo con l'ostia e con i riti che hanno a che fare con l'inizio dell'estate. In realtà in Sicilia si fanno queste rappresentazioni da 4.000 anni, da quando la cultura del grano ha assimilato le date della raccolta del grano con gli festeggiamenti e con le rappresentazioni ludiche legate anche al culto di Dioniso. In questo momento siamo a Taormina in una strada parallela al corso dove sono stati inseriti, allestiti sul pavimento delle rappresentazioni che fanno vagamente riferimento al cristianesimo. in realtà rappresentano fiori di tutti i tipi, agnelli, la luna, i limoni, gli angeli, le farfalle, insomma una serie di rappresentazioni che hanno sempre a che fare con la natura e e quindi riferimenti animisti di fiori sbocciati, il sole, le arance, il girasole, tutti riferimenti animisti collegati a questo culto antichissimo. Grazie. 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 Grazie.